Allora, discutiamo di una questione delicata che riguarda il mio settore, ovvero il fantastico, questo dei miei settori, ma anche altri campi. La nostalgia. La nostalgia che è un sentimento, un'emozione, che a me piace, lo anticipo, io sono di parte perché a me piace la nostalgia come sentimento, senz'altro molto di più della malinconia, e poi è una strategia di marketing. Ma per non fare un video lunghissimo cerchiamo di inquadrare subito il problema. Da alcune parti, nel mio settore, ripeto, nel fantastico, quindi libri, cinema, serie tv, fumetti, giochi di ruolo, videogame, eccetera, c'è qualcuno che accusa il mercato e il pubblico di vivere solo di nostalgia, ovvero di celebrare, per esempio, quelli che erano i film cult degli anni Ottanta, quelli che erano i giochi di ruolo, quindi Dungeons & Dragons, i librogame, quelli che erano i fumetti, adesso ci sarà, chiamiamolo, il remake degli X-Men degli anni Novanta su Netflix, se non sbaglio. E qui al punto che il pubblico apprezza, soprattutto un pubblico che va in una fascia d'età dai 33, 34, ai 55, forse anche i 60, apprezza tutto ciò che richiama la loro gioventù. Quindi il marketing faleva su questo, sui bei ricordi dei tempi in cui ci divertivamo con Dungeons & Dragons, con i film di Schwarzenegger, con i primi Ghostbusters, con i librogame, appunto, con Zagor, Tex Wheeler, Dylan Dogg. Il marketing analizza e ricava un potenziale pubblico disposto a spendere dei bei soldi e case editrici, case di produzione, autori, editori, tutto quello che ci sta dietro ne approfittano e calcano una mano. Quindi abbiamo visto in questi anni una rinascita del fenomeno librogame, per esempio, che era praticamente relegato al passato fino a 3-4 anni fa, era una questione per pochi collezionisti, mentre adesso ci sono tantissimi librogame, anche in italiano, con una nicchia, uno zoccolo duro, magari non enorme, ma molto appassionato e disposto a spendere dei bei soldi per acquistare, appunto, i nuovi librogame e magari le riedizioni cartonate dei vecchi librogame. Stesso discorso, più in grande, lo possiamo vedere da più tempo con i film, perché abbiamo un remake, reboot, dei film degli anni 80 sostanzialmente e qualcosa dei 90. Adesso è uscito il nuovo Ghostbusters, ho letto che avremo un nuovo capitolo di Predator, si parla di nuovi capitoli di Alien, si parla di remake di film appunto degli anni 80, abbiamo visto tutto il nuovo comparto legato a Godzilla e King Kong, anche se quello è una cosa un po' un po' a parte, perché è stata fatta bene e non sa tanto di remake, però sostanzialmente va a toccare cose molto vecchie, addirittura degli anni 50. E poi che altro? Abbiamo comunque Dylan Dog che prova a rilanciarsi, cambiando leggermente la formula, eccetera, eccetera. I giochi di ruolo, neanche parlarne, c'è una rinascita del gioco di ruolo, tra i vecchi classici riproposti e nuovi giochi di ruolo che comunque vendono grazie anche al traino dei vecchi classici. Quindi quelli che un tempo eravamo noi, i 18 anni, che negli anni 90 giocavano all'Angels and Dragons, allo sguardo nel buio, al richiamo di Cthulhu, adesso magari tornano ad acquistare materiale di questi giochi e nel contempo, visto che ci sono, spendono e comprono anche di altri sistemi di gioco. E il mercato è molto florido, insomma. E c'è appunto chi, nel mio settore, quindi nel settore fantastico, qualcuno li chiama tra i nerd, c'è chi condanna questo attaccamento alla nostalgia e al passato e punta il dito contro il pubblico dicendo che comunque siamo dei vecchi, chi più chi meno, i trentenni magari considerati in questo senso già vecchi, i quarantenni non ne parliamo, che vivono di ricordi e spendono soldi per foraggiare i ricordi appunto di quelli che era la loro gioventù, senza dare possibilità alle cose più di nicchia, ai prodotti nuovi, alle nuove tendenze. Io ho già detto, sono un nostalgico, mi piace la nostalgia, soprattutto a livello più intimo e personale che non per parlare solo di libri, romanzi e giochi o videogiochi. A livello personale mi piace la nostalgia perché comunque mi permette, anzi mi fa rendere conto di aver vissuto dei momenti felici, che magari adesso non ci sono più, per molteplici ragioni, ma che ci sono stati. Quindi pensando nostalgicamente al passato, rivivo quei momenti belli, mettiamo per esempio dei viaggi e così realizzo di aver vissuto anche dei periodi felici della mia vita. Insomma, non credo che sia nulla di male la nostalgia intesa in questo senso. Poi sicuramente ho anche una nostalgia di mercato, chiamiamola così, quindi sono tornato un po' a interessarmi di giochi di ruolo, sicuramente non ho mai perso di vista tutta l'influenza della cultura anni 80 e 90, anche nelle mie produzioni, quindi in ciò che scrivo e via dicendo e via discorrendo. C'è del vero in parte delle accuse contro la mercificazione della nostalgia, c'è del vero nel senso che spesso si calca la mano, per esempio, stando al cinema, all'esempio del cinema, molti remake, molti reboot sono pessimi e sono stati fatti solo per sfruttare un marchio che funziona nel cuore e nella memoria del pubblico, penso al Ghostbusters al femminile che è indifendibile, ma penso ad alcuni nuovi capitoli di saghe che erano state abbandonate da anni, nuovo Matrix, a me fa venire un po' i brividi, i nuovi alien che poi non sono alien mi hanno lasciato un grosso meh e via discorrendo, insomma, c'è una mercificazione spesso pessima in un ribasso di qualità. Però, tutto sommato, io credo, e questa è la mia interpretazione personale, che dando comunque lustro, credito e parlando di cose che sono piaciute in quella che era la mia gioventù, cerco innanzitutto sì di fare del bene a me stesso, perché ricordo quel periodo felice, ma cerco anche di tramandare qualcosa che potrebbe piacere non certo a tutti i giovani, ma a qualche giovane, qualche giovanissimo. Non a caso, io stesso, quando avevo 18 anni, ho imparato a apprezzare Lovecraft, che non era certamente un autore mio contemporaneo, o Poe, per capirci, o Tolkien. Quindi non ci vedo nulla di male, c'è sempre stato chi, pur giovanissimo, guarda al passato e a chi ne parla con appunto nostalgia, vantandone qualità, magari esagerando, ma vantandone qualità. Quindi, secondo me, è anche un'opera di... un'opera atta tramandare qualcosa che ci è piaciuto e che qualcosa che la qualità sicuramente ce l'ha, magari non in modo esagerato, come la ricorda del nostalgico, ma del valore ce l'ha. Penso, ecco, stiamo ad esempio Libro Games, secondo me erano degli ottimi, degli ottimi intrattenimenti, sia a livello ludico, ma anche per fare innamorare il ragazzino della lettura, il ragazzino a cui magari non fregava, non aveva mai fregato nulla di aprire un libro, dal momento che tu gli facevi conoscere un libro che era anche un gioco, impazziva, impazziva e da lì passava magari, non necessariamente, ma magari a leggere fantasy, a leggere fantascienza, a leggere altro. Quindi, secondo me, pur confermando che c'è dietro tutta un'opera di marketing molto furbo alla rinascita del libro game, c'è la possibilità che questi strumenti funzionino ancora per avvicinare delle persone alla lettura. E poi sono d'accordo che il 90% degli equivalenti dei libro game al giorno d'oggi sono nella fascia d'età 35-55, ma ci sarà anche il 20enne, il 18enne, anzi, se ci sei e mi stai seguendo, palesati nei commenti e dimmelo. Ce ne sarà uno su 20, però c'è e magari si avvicina alla lettura così. Il discorso è estendibile ad altre cose. Giochi di ruolo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, chiudo con uno spunto polemico. Mi fa molto più ridere il buber, diciamo questa parola, il 50enne, per esempio, che si scaglia contro la nostalgia e segue la moda scimmiottando certi movimenti giovanilistici, con il linguaggio, con delle battaglie giusto, sbagliate che siano, ma che non gli appartengono. Quindi aggregandosi a cose in cui è veramente un pesce fuor d'acqua. E il tentativo, in questo caso, secondo me, è quello di farsi bello, di dichiararsi buono, di dichiararsi nella parte dei buoni, davanti a un pubblico appunto di giovanissimi. Ed è una cosa che però il più delle volte mi risulta patetica, perché quando vedo gente della mia età o più grande, appunto, usano il linguaggio che usano i diciottenni adesso di certi movimenti, del tutto irrispettabili, con delle battaglie sacrosante, ma quando vedo uno della mia età usare lo stesso linguaggio, magari senza averlo mai fatto prima, ecco, quello mi fa molto più ridere del mio coetaneo che parla con nostalgia di Dungeons & Dragons, dei libro game, di Ghostbusters o dei fumetti degli X-Men degli anni 90. Spero di essere stato chiaro. Comunque voglio sapere, questa volta, più delle altre volte, cosa ne pensate voi della nostalgia se provate questo tipo di sentimento, sia a livello personale che a livello, appunto, commerciale. Iscrivetevi al mio canale, seguitemi anche su Instagram, eccetera, eccetera. Insomma, le cose le sapete, fatele, se volete sostenermi, perché è utile.